Ciao a tutti e anche oggi benvenuti nel canale YouTube della Perugia Motori dove insieme scopriamo davvero tutte le novità e tutte le potenzialità del marco Suzuki venduto dalla Perugia Motori. Bene, oggi come oggi cambia la società, cambia il mercato dell'auto perché fondamentalmente cambiano le esigenze dei nostri clienti. Suzuki ovviamente è al passo con tutto questo e Perugia Motori ci aiuta a scoprire come è possibile oggi avere sempre una macchina alla portata delle nostre esigenze. Bene, la cosa più importante oggi come oggi è la sicurezza, ma ci piace unire la sicurezza alle possibilità dello smartphone che abbiamo tutti i giorni ormai in mano, in tasca, sempre con noi. Bene, come è possibile tutto questo? E allora oggi con la Perugia Motori viaggio in sicurezza e sguardo sulla strada, mani sul volante, ma un mondo di applicazioni qui vicino a noi. Come è possibile questo? Tutto questo si chiama Apple CarPlay. Scopriamolo oggi alla Perugia Motori. Ciao a tutti da Sergio e dalla Perugia Motori. Questa mattina siamo qui a farvi vedere il collegamento telefono macchina. Allora, in questo caso andiamo a vedere proprio il sistema operativo Apple CarPlay. Andiamo a prendere il nostro iPhone, colleghiamo il cavo originale dal cellulare alla nostra presa USB e abbiamo la nostra mappa. Così facendo, sulla versione cool che è sprovvista di navigatore di serie, abbiamo la possibilità di sfruttare il navigatore del nostro cellulare. Nello stesso tempo abbiamo la possibilità di andare a selezionare varie applicazioni tipo Spotify, tipo i messaggi. Possiamo andare anche a vedere il telefono, possiamo andare a sistemare le impostazioni, possiamo andare a vedere i messaggi di WhatsApp. Tra le applicazioni abbiamo anche l'applicazione Zoom, che grazie a questa possiamo fare le chiamate per le conferenze aziendali. Se avete altre delucidazioni, addichiarimenti da chiederci, non hesitate a chiamarci. Detto questo, un saluto da Sergio e dalla Perugia Motori. Ciao!